musica 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 eh non fa male eh cazzo sono forza ma come resto solo io ma sbaglio o i server scattano un po' penso di sì eh perché molti non lo faceva in dove l'assalto eh lo so perché quanti l'abbiamo trovata ho una cosa per te sarebbe eh spero che sia un assalto visto con fanteria sento uno spazio però sì sì ma se vanno avanti così questi entro stasera collassano eh ok 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 no no eliminati basta quanti mi controllano mi controllano un attimo i server che scattano troppo io non lo vedo fluido il gioco per niente va meglio per ora per ora sì per me si sono sbrigati in fretta e furia a fare questa modalità ma l'hanno fatta con i piedi no l'hanno lanciato perché perché era necessario però c'è qualcuno ecco lì ecco lì ecco lì ecco è qua vicino a sentire non è comunque là è schifo proprio aio manculo aspetta devo fare la giornatiera non mi sparare ok ho usato una benda ce l'hai sotto eh sezione ok 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 mo' esce per forte perchè perchè eh ho capito ma dove devo andare sto cercando di non farmi sparare se non l'avessi capito a parte che lagga merda appunto io mi sono allontanata per farti responare a te ma capito eh così loro hanno il mio pompa eh eh e vuoi vincere ciao no no perché mo' hanno le armi migliori delle nostre eh eh cioè che cosa vuoi fa contro un pompa viola fammi capito ma che ti so venuti appresso no 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 sì sì ma non si può giocare così però no 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 cioè indossavamo 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 cosa prendi i tuoi lingotti che io non mi posso via non stai non stai ok sì scudo grande ok aspetta devo prendere un po' di colpi della mitraglietta perché sto a corpo un po' buono aspetta ah tu ce l'hai che rottura di cazzo però no ma non è quello è che comunque così non non riesci manca a giocare quello è fatto e ho capito a satanate vede meno anche perché non è che a levano domani a modalità eh ci avete tutto il tempo eh eh esatto vedo gente davanti a me sì è uno che sta salendo tanto vanno a pinacoli vanno tutti là eh morì non è capito che dei morì non è capito che dei morì ah cazzo dai ma non morite però pistina d'avena diventa un sicuro porco due porco tanto suono un braccio a te ok ah no mi sono andata a vincere gente aspetta e sui gas provi dove sta a vincere gente eh lo so ma non potevo lasciarti eh qua c'è lanciagazzi non potevo lasciarti non potevo lasciarti aspetta che salgo aspetta che salgo ok ok eh vabbè ma mou non mi posso andare più a metter perdere vita Grazie. Guarda, io la metterai in questa partita solo per tutte le volte che siamo risponate. Sì. Sì, non perde vita. Mai rigite qua roba. C'è un sacco di roba. C'è un sacco di roba. E dove sono morta io prima. Sì. Eccoli. L'ho danneggiato tantissimo. Non si deve curare. Eccolo. Destra, destra. Dai, dai, dai. È morto questo cazzo. Questo è morto? Ammazzalo subito. Ok. Eccolo. No. Cavolo. Sì. 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 Sì.